Grazie ragazzi e ragazze, buongiorno a tutti, buongiorno e grazie davvero di questo lavoro, di questa lotta che state facendo, che mi fa molto sperare. Ma dunque io in realtà vorrei raccontarvi molto rapidamente come nasce questa idea della pedagogia e della resistenza che in realtà nasce in modo molto ingenuo quando stavo facendo la tesi di laurea, io mi sono laureato in filosofia con Riccardo Massa che è stato il mio grandissimo maestro e che era un pedagogista e ho fatto una tesi in pedagogia e a un certo punto studiando la resistenza antifascista e antinazista dal punto di vista pedagogico mi è venuta un po' questa frase che ho scritto in un capitolo della tesi, pedagogia e della resistenza, proprio buttata lì da studente, giovane universitario e il mio professore Massa mi aveva detto ma questa cosa qui l'ha inventata lei o l'ha trovata da qualche parte? E io ho detto ma in realtà mi è venuta in mente ma guardi che potrebbe essere interessante e devo dire che negli anni mi sono un po' ritrovato, andavo in giro a parlare e mi ha detto ma tu sei quello della pedagogia e della resistenza? Ho inventato una cosa senza sapere ma in realtà dietro c'è un'idea che è molto banale da un certo punto di vista cioè che uno non nasce resistente, che a resistere si impara, che ognuno di noi può resistere al potere, al dominio, all'umiliazione, allo sfruttamento nel suo ambito di vita, di lavoro, di studio, di esperienza e che per resistere non è necessario essere grandi, alti, forti, armati o comunque anzi probabilmente anche la consapevolezza della propria fragilità, della paura, del fatto che appunto non siamo certi di riuscire nella resistenza è già un punto di partenza. Quindi ho iniziato un po' a lavorare su questo tema, su come non tanto insegnare a resistere, quanto imparare insieme, che non c'è un professore di pedagogia della resistenza, per l'amor di Dio non c'è una materia chiamata così, perché veramente si impara insieme. Io poi negli ultimi anni lavorando in ambito, io adesso da cinque anni insegno nel Dipartimento di Medicina di Milano, insegno ai futuri medici, infermieri, fisioterapisti, sono tutti coloro che lavorano a contatto con le professioni di cura diciamo, vedo molto la resistenza nei pazienti, nelle persone malate, nelle persone che devono resistere a volte anche al dispositivo ospedaliero, che è spesso spaventoso, alienante, che non rispetta il tuo pudore, non rispetta la tua corporeità. Quindi un po' questo, ecco, naturalmente uno resiste se non gli piace il mondo in cui vive, perché chi ritiene che il capitalismo sia la fine della storia, come diceva un libro un po' d'anni fa di Fukuyama, oppure sia il migliore dei mondi possibili, chiaramente non resiste, insomma, o forse va portato a percepire l'infelicità. Ecco, io penso che una delle cose che dobbiamo imparare un po' tutti è percepire il dolore degli altri, l'infelicità, soprattutto dei giovani. Io ho la fortuna di lavorare tutti i giorni con i giovani nelle scuole, non solo in università, ma anche nelle scuole, proprio un po' tutte le scuole, e vedo una grande sofferenza nei ragazzi e nelle ragazze, una grande sofferenza esistenziale, un grande disagio di vivere, che è legato al sistema, secondo me, magari qualcun altro abbia una diagnosi diversa, ma è legato proprio al sistema in cui viviamo e soprattutto al sistema che è penetrato dentro la scuola in modo molto pervasivo. E quindi la prima cosa è capire che ci sono alternative, che questo non è il mondo definitivo, che non è la fine della storia, ma che potrebbe essere la fine nel senso più negativo. Il fatto che voi ragazzi, voi giovani, abbiate posto da qualche anno il tema dell'ecologia in modo radicale, cioè dicendo qui non si va, non c'è di mezzo la scelta di un modello di sviluppo piuttosto che un altro, qui c'è di mezzo la fine del mondo, c'è di mezzo la catastrofe ecologica, non è più una questione quasi neanche di scegliere, o si cambia o ci autodistruggiamo, e che questa cosa sia stata posta soprattutto dai giovani, secondo me è molto significativo, perché vuole dire che c'è una percezione di un futuro che non è più garantito, nemmeno che esista, al di là di cosa può essere. E quindi io proprio parto da questo tema della resistenza rispetto proprio a, da un lato, un sistema che è quello capitalistico, ma io lo chiamo capitalistico perché si chiama così, non trovo necessità di cambiare nome, che si nutre proprio delle vite delle persone, si nutre proprio della... Quando mi chiedono di definire questo sistema, io non sono un economista, quindi non lo so definire dal punto di vista economico, neanche socio-politico, però è un sistema che continua a prelevare ricchezza dal corpo vivo delle persone, ricchezza non solo economica, anche ricchezza di senso, di significato, lavoro schiaristico per due terzi del pianeta, e invece dove noi viviamo e operiamo proprio un prelievo di senso, cioè ridurre la vita delle persone a qualche cosa di insensato. Leggevo un libro molto bello che è uscito qualche tempo fa, si chiama 24 barra 7, è un'analisi del tempo di lavoro nel capitalismo avanzato, e l'autore dice una cosa che è sorprendente, ma è sorprendente perché è sotto gli occhi di tutti, quando qualcuno ce lo fa notare, che la gente comune non ha mai lavorato tanto quanto nel nostro sistema. Questo 24 barra 7, lavorare 24 ore al giorno, comunque un sistema che opera 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, riduce i tempi del sonno, dell'ozio, del riposo, ed è sorprendente leggere questo libro e riflettere sul fatto che lavoriamo veramente in una maniera spaventosa, magari non lavori schiavistici naturalmente, alcuni sì naturalmente, però l'idea che tu sei nato per lavorare. Io mi sono formato su autori come Marcuse, che parlavano di liberazione dal lavoro, parlavano di un lavoro non più come costrizione, ma come gioia, come gioco, come stare insieme, come modo di fare qualche cosa che tutti condividiamo, e adesso ritrovo un po' questa critica. Venendo alla scuola, io vi riporto una discussione molto molto accorato che ho avuto l'anno scorso, quest'anno, in un seminario organizzato da un sindacato, con un dirigente di Confindustria, un dirigente importante di Confindustria regionale. Lui ha fatto il suo intervento e nel suo intervento ha detto, ma in maniera spudorata proprio, ha detto ma i programmi delle scuole devono farli le aziende, non il ministero, perché sono le aziende che sanno che cosa serve ad un ragazzo per poi trovare lavoro. Ecco, a me ha colpito la spudoratezza con la quale ha detto questa cosa, senza neanche nascondere, senza neanche fare finta, senza dire no vabbè ma facciamo finta di passare per il ministero, visto che tutto sommato siamo in una democrazia, c'è una costituzione, c'è un Parlamento. No, no, voi date a noi questi giovani e li formiamo noi. E io non ho dubbi sul fatto che li formerebbero dal loro punto di vista molto bene. Per cui c'è un po' questo tema di un modello che, come avete scritto voi dietro lo striscione che avete scritto, che avete appeso alle vostre spalle, questo modello di scuola ci sta uccidendo e forse, l'episodio di Lorenzo chiaramente è stato un episodio terribile e tragico, ma sta anche modellando delle persone, sta anche modellando una vita, è un potere di dare un certo tipo di vita, di convincerci che non esiste nessuna alternativa a questo modo di vivere, che ripeto non è il non lavorare, ma è il lavoro come condivisione, come gioia, come opera, come direbbe Anna Arendt, come modo di contribuire al benessere di tutti. Ultime due cose. Ecco, la questione, una questione importante secondo me, su cui ho lavorato molto, è la questione del potere, che è una questione molto delicata perché definire il potere è molto difficile oggi. Oggi stiamo vedendo un mix tra quello che Foucault definiva potere repressivo, potere costruttivo, potere disciplinare, c'è la repressione, la repressione è evidente ai ragazzi che sono stati manganellati l'altro giorno in piazza, purtroppo hanno dimostrato che non è vero che non c'è più il potere fisico, il potere di prendere a botte la gente, insomma. Però è anche vero che c'è un potere più morbido, più persuasivo, quello della pubblicità, eccetera. Ecco, io penso sempre che le occupazioni, le iniziative di lotta vostre, di voi e i ragazzi, ma anche i nostri, di noi adulti, quando trovi qualcuno che ha voglia di farle, però soprattutto per voi, sono davvero una palestra straordinaria di resistenza. Voi mi chiedevate, la resistenza deve necessariamente avere un fine esterno o può essere considerato un fine in sé? No, un fine in sé magari no, però un modo per imparare a resistere. Per esempio, nelle occupazioni si pone la pratica dell'occupazione dello spazio, del tempo, della ridefinizione dei tempi, del rapporto tra ragazzi più grandi e ragazzi più giovani, quindi tipicamente le occupazioni vengono decise dai ragazzi di quarta e quinta, però come coinvolgere i ragazzi più giovani, come nelle occupazioni c'è spazio per tutto il tema della differenza di genere. Io ho fatto politica, fin da quando ero ragazzino, sempre nella estrema sinistra, la democrazia proletaria, insomma quell'area lì, e ricordo le compagne che ci facevano notare le piccole tracce del nostro maschilismo e continuavano a dire, beh, ma voi siete comunisti, a sinistra, l'EPC, eccetera, eccetera, però avete ancora la battuta maschilista, avete ancora questo modo di fare, la seduta la presiede sempre, un maschio. ed è stato molto formativo, e stiamo parlando di, io ho 56 anni, quindi stiamo parlando di tanti anni fa, perché si poneva la questione del potere, cioè queste compagne ci dicevano, se voi volete, noi vogliamo cambiare la società, non possiamo riprodurre nelle nostre riunioni di partito, di sezione, di cellulo, come si chiamava allora, riprodurre le stesse dinamiche del potere. Ed era un modo non moralistico, non perché bisogna fare la comunità dei santi, ma perché si faceva riflettere su come il potere era dentro di noi, e poteva essere affrontato a partire da ciascuno di noi. Ecco, io queste cose volevo dirvi come primo giro, proprio partendo, e chiudo con una frase di Marx, quando Marx dice siamo ancora nella preistoria, la storia umana non è ancora iniziata, che è una frase molto importante, perché risponde a chi dice ma lo sfruttamento c'è sempre stato, l'uomo è cattivo di natura, si saranno sempre i poveri, perché ci sono sempre stati. In realtà non è vero nemmeno che ci sono sempre stati, ci sono stati esempi di società anche non occidentali nelle quali lo sfruttamento, così come lo conosciamo noi, non esiste e non è esistito. Però il passo nella storia probabilmente non l'abbiamo ancora fatto, quindi la liberazione dell'uomo, della donna, del bambino, quello che hanno sofferto i bambini e gli adolescenti in questi due anni è spaventoso. Io posso anche capire che era necessario, però il fatto di non capire il dolore che stanno provando i bambini, io ho due figli preadolescenti, in questi due anni di pandemia è veramente disumano. Quindi quest'idea di un passaggio ad un nuovo modello che può essere praticato anche nelle relazioni quotidiane, soprattutto di chi si mobilita per lottare. Se nelle nostre relazioni, quando organizziamo la lotta, riusciamo ad avere un rapporto di fraternità, di sororità, allora è già un anticipo di quello che potrebbe essere a livello sociale nel momento in cui costruiremo davvero un mondo diverso. Queste sono le cose che volevo buttare lì insieme a voi. Grazie.